Buongiorno a tutti, io sono Alessandro, sono uno dei tre founder di Friends. Friends è una startup nata circa tre anni fa con l'intento di creare un nuovo modo di fare pubblicità sui social, quindi dare la possibilità alle aziende di avere un nuovo modo di entrare all'interno delle case dei loro consumatori, ma questa volta non facendo una pubblicità tradizionale, ma coinvolgendo gli stessi consumatori, le stesse persone comuni che sono all'interno della popolazione nel renderli una sorta di ambassador nella pubblicazione di contenuti creativi sui loro profili social, quindi non affidarsi a influencer che hanno milioni di audience, ma coinvolgere migliaia e se non decine di migliaia di persone che hanno un audience più piccola, guarda caso fatta proprio dai loro amici, nel coinvolgerli e nel fargli creare dei messaggi di comunicazione. Per fare questo abbiamo creato un'applicazione nel 2015, chiamata Friends, totalmente gratuita, che permette alle persone di divertirsi e partecipare a questo tipo di campagne creative e social. L'applicazione è estremamente semplice da usare, all'interno si trovano una serie di campagne, che sono delle attività che noi lanciamo, in cui le persone devono leggere le istruzioni, creare il contenuto che viene richiesto, caricarlo nell'applicazione, perché il contenuto deve essere controllato a mano prima della pubblicazione, viene controllato a mano da un enorme staff che in realtà, poi vi spiegheremo che è formato dalla stessa community, e quando il contenuto viene validato, viene pubblicato sul profilo social dell'utente e l'utente riceve in cambio delle monetine virtuali che può accumulare e poi spendere in servizi e premi, divertimenti all'interno della stessa applicazione. Questi sono esempi di cose che facciamo, lavoriamo tendenzialmente con grandi multinazionali in cui commingiamo le persone o per lanciare nuovi prodotti, o per lanciare trailer di film, o per riposizionare dei prodotti che magari sono ad oggi percepiti un po' vecchi. Ma quello che vorremmo raccontarvi è che siamo partiti nel 2015, siamo riusciti a crescere fino a 250.000 utenti di applicazione senza mai investire un centesimo. Cioè quello un po' era portato dal fatto che non avevamo un centesimo noi da investire in marketing, e quindi abbiamo dovuto inventarci dei modi per far crescere questa community organicamente. Quello che ci siamo ritrovati ad avere in mano era una community che non solo cresceva molto velocemente, ma era estremamente attiva. Cioè la percentuale di utenti all'interno delle nostre applicazioni che sono dei pazzi fanatici di questa cosa è estremamente elevata, sono estremamente attivi ogni giorno. Adesso 18, anche di più, decine di migliaia di contenuti vengono caricati. In tutte le nostre sottocommunity, nei vari social, ci sono migliaia di commenti ogni giorno, ed è una cosa che abbiamo imparato a gestire, sbagliando, azzeccando cose. Cosa è successo nel 2015? Nel 2015 io e i miei due compagni di avventura eravamo dei neolaureati, anzi io studiavo ancora all'università, per cui non avevamo idea né di cosa fosse una community, né di cosa fosse una start-up, né di cosa fosse lavorare. Per cui abbiamo avuto la fortuna di esserci incontrati a un corso di imprenditoria che insegnava agli studenti come si fanno le start-up. Loro ci hanno insegnato poche cose ma giuste, e una delle quali era se vuoi costruire qualcosa che funziona non la devi fare come vuoi tu, la devi fare come la vuole la gente. Che è una cosa semplice da dire, ma quando viene il momento di farlo è molto molto difficile. Per cui noi cosa abbiamo fatto? Dovevamo creare questa applicazione, e avevamo già in testa come farla di design, di funzionalità, di feature, era super complicata, poi noi siamo ingegneri e abbiamo fatto una roba super bellissima, se sei un nerd, ma se sei una persona comune era evidentemente troppo complicata. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo pubblicato un prototipo, ma veramente brutto, che aveva un decimo delle funzionalità che volevamo, era proprio brutto anche graficamente, e l'abbiamo pubblicato su Play Store. Già ci aspettavamo insulti da ogni parte, invece abbiamo scoperto che i primi utenti che la scaricavano capivano che effettivamente era un progetto che stava nascendo, e ci mandavano dei feedback, nel senso se possiamo darvi una mano, se volete dei consigli, allora noi abbiamo detto aspetta, proviamo a fare questa cosa. Abbiamo mandato un'email a tutti e abbiamo detto sentite venite, in questo gruppo Facebook, lo chiamiamo Friends Beta Tester, dove magari parliamo un po' di questa cosa. E abbiamo detto sfruttiamo questo gruppo, non solo per comunicare con i nostri primi utenti, ma per chiedere a loro come costruire questo prodotto. Quello che non ci siamo accorti nel fare questa cosa, era che noi, non c'è un ottio istintivo di utilizzare la pagina Facebook, la pagina Facebook a differenza di un gruppo, ti parla dall'alto, io sono sul palco e che parlo a voi, e voi non mi state rispondendo. Un gruppo invece mette tutti sul stesso livello, per cui ha portato noi a non presentarci come azienda, ma come persone fisiche, e faceva parte di tutte quelle piccole cose che cambiano tutto all'interno di una community. All'interno di questo gruppo noi facevamo domande, ma soprattutto leggevamo tutte le cose che loro avevano da dire, e soprattutto abbiamo notato che non eravamo noi a parlare con loro e loro con noi, ma erano gli utenti stessi che parlavano tra di loro, e discutevano e capivano insieme quale fosse la cosa migliore da fare. Per cui all'inizio dell'applicazione aveva ovviamente una marea di bug, non funzionava nulla, ed erano gli stessi utenti, sia che trovavano i bug, sia che ci ricevano cosa fare. Per cui all'inizio è stato usato come customer care. Una delle cose che avevamo deciso da subito era di dare estrema attenzione al customer care. Noi non eravamo una struttura, non avevamo nulla, né soldi, né competenze, né nulla, per cui abbiamo detto usiamo questo gruppo Facebook, ma mettiamoci le regole molto rigide. Cioè noi rispondiamo a qualsiasi bisogno di i nostri utenti, entro due minuti, H24 tutto l'anno. E a dire sì, era una cosa molto semplice. E le prime settimane è stato anche bello, io mi ricordo passavo solo 14 ore al giorno a fare questo. Dopodiché abbiamo visto che io stavo uscendo di testa, per cui abbiamo detto ma ci sarà un modo per riuscire un po' a scalare questa cosa, no? Allora abbiamo detto ma chiediamo alla stessa community se vuole aiutarci. Non si sa mai, no? Ma gratis così, c'è al punto che lo deve fare perché si diverte. E abbiamo scoperto che la gente non vedeva l'ora di essere coinvolta fino a questo punto, no? Per cui hanno iniziato ad aiutarci anche su questo. Contemporaneamente noi approvavamo anche tutte le foto che arrivavano, perché all'inizio erano 100 al giorno, poi 300 al giorno, poi 1000 al giorno e poi uscite di testa anche voi perché è una roba veramente difficile. Quindi abbiamo detto ma non è che volete fare anche questo, entrare anche nella parte delle operation che stanno dietro l'app. Vi creiamo uno dashboard dove guadagnate le monetine anche facendo questo tipo di attività. Ad oggi sono tipo 100-150 che fanno queste attività e piano piano mentre crescevamo con i primi mille utenti ci siamo accorti che le cose non stavano andando come noi volevamo. Cioè noi retribuiamo, tra virgolette, con delle monetine virtuali convertibili in premi vari delle persone per fare delle attività. Ancora ci siamo accorti che noi stavamo pagando troppo le persone. Cioè le persone che arrivavano guadagnavano, che ne so, 2-3 euro in valore di gift card di Amazon per ogni attività che facevamo, no? Per cui avevamo in questo modo attratto tutti gli opportunisti del web che vedevano questo come uno strumento di guadagno. Che poteva anche andare bene se lavorassero per portare valore a noi. In realtà loro producevano contenuti al minimo indispensabile per seguire le regole a essere approvate ma non era reale valore. Era molto lontano da quello che pensavamo noi come coinvolgimento delle persone sui propri social. Per cui da un giorno all'altro abbiamo deciso di passare il reward da 3 euro a 10 centesimi. Cioè di non far guadagnare più nessuno da questa applicazione. Se lo usi tutti i giorni, 6 euro al giorno, guadagni 5 euro in un mese. Abbiamo detto, vediamo. Tanto così le cose non le vendiamo. Proviamo nell'altro modo. Seguiamo tutto e scopriamo che dei primi 5-6 mila utenti tre quarti abbandonano l'applicazione ma quei 1.500 che sono rimasti loro non hanno percepito la differenza perché loro non erano lì per guadagnare. Erano lì per tutto un meccanismo di engagement, gamification, competizione e stimolo della creatività che li appassionava. Questi 1.500 sono diventati 250.000. e sono stati 250.000 perché mano mano che noi imparavamo queste cose abbiamo iniziato a inserire delle piccole attività, attenzioni, strumenti che permettevano a loro di aumentare il proprio livello di competizione e di egocentrismo all'interno della stessa community che li ha portati ad essere veramente pazzi di questa cosa tanto da invitare tutte le persone che conoscevano l'utilizzo dell'applicazione senza che loro ne traessero un guadagno. Cioè noi all'inizio non avevamo un sistema di member get member dove guadagni delle monetine se porti altre persone l'abbiamo messo successivamente. Anzi, dato che abbiamo visto che funzionava bene questa applicazione solo se una persona che era già un utente già faceva parte della community te la raccontava bene abbiamo messo un modo un po' particolare di mettere questo invita amico. Se un membro della community vuole invitarti non può mandarti un link una sorta di link tracciato in cui io guadagno qualcosa se tu entri nella community no, io devo farti scaricare l'app davanti a me devo farti inserire a mano il mio codice utente dopodiché noi ci leghiamo e per una settimana siamo legati se tu in quella settimana utilizzi l'applicazione io guadagno 50 monetine se tu che ti ho invitato non la utilizzi cioè magari io ho fatto spam in giro eccetera noi toglievamo crediti dal conto di chi aveva invitato e questa cosa qui ha portato in realtà il numero di utenti attivi su download che era l'80% cioè era una roba incredibile e era un meccanismo che ha portato questa roba a crescere veramente forte. Poi abbiamo capito quanto il coinvolgimento sia lato utilità della persona sia coinvolgimento emotivo fosse importante per cui abbiamo iniziato ad inserire una serie di cose tipo quando carichi una fotografia nell'applicazione tu ricevi una notifica che ti dice se la foto ha passato o meno la fase di selezione questa notifica è personalizzata c'è qualcuno che ti scrive ciao Caterina hai una bellissima maglietta oggi anche se i quadretti a me non piacciono bravissima hai preso 30 monetine ci vediamo domani e per sta cosa la gente usciva di testa noi abbiamo fatto dei test per esempio a togliere questa tipologia di notifica ma si sono scatenate delle rivoluzioni la gente diceva toglieteci le monetine già non guadagniamo un cavolo ma toglietecele pure ma non toglieteci questi 10 secondi di attenzione che ci date durante il giorno per cui abbiamo piano piano costruito tutto all'interno di questo gruppo e il senso di appartenenza perché diventava sempre più forte perché a volte entravano persone in questo community che dicevano ma qua non si guadagna un cavolo sotto quei posti lì ce ne erano 300 di persone che gli dicevano sei nel posto sbagliato se non condividi i valori di un progetto che sta nascendo una roba che stimola la creatività una roba che ci fa divertire vattene cioè era proprio la stessa community a proteggersi il fatto di essere un gruppo non una pagina il gruppo è uno spazio chiuso la pagina è accessibile da tutti il gruppo noi parliamo solo tra di noi si è sviluppato quasi un gergo in cui se uno entra all'esterno non capisce neanche cosa stanno parlando perché hanno tutte le terminologie legate all'applicazione alle loro esperienze che li fa sentire sempre più appartenenti a qualcosa dopodiché la competizione abbiamo visto che era estrema sia a livello di ego perché all'interno della community che adesso ma il nostro gruppo facebook è di tanto perso cioè solo per dare uno spazio alla community di esistere sono dentro quasi 30.000 persone ad oggi il loro obiettivo è elevarsi all'interno di questa community per cui in mezzo a 30.000 io voglio far vedere che sono il più appassionato il più ambassador il più coso per cui la maggior parte dei post non sono più riguardati i problemi customer care eccetera perché ci sono altri canali io voglio stare nella community per far vedere che anch'io ho qualcosa anch'io sono il più bravo io faccio più like dagli stessi utenti quando pubblico qualcosa e soprattutto io ho i KPI all'interno dell'applicazione migliori degli altri abbiamo inserito una serie di cose malatissime tipo una si chiama algoritmo è un numerino quasi random cioè non random diciamo diciamo un numerino che non ha non ha un obiettivo non ha un senso l'algoritmo è la formula magica che ti dice ogni giorno quanto sei bravo all'interno dell'applicazione va da 1 a 250 varia sulla base di no dai varia in base a quante like prendi nelle foto a quanto gli approvatori giudicano bella la tua foto ai commenti sotto le foto eccetera comunque dà un'indicazione di quanto sei social però non ha un'utilità cioè sei 250 non sei più bello degli altri però la gente si uccide noi troviamo anche riposta sotto i profili personali delle persone che sono fuori dalla community che dicono ah cavolo l'algoritmo è sceso di 10 oggi e veramente una giornataccia poi abbiamo capito che c'erano alcune persone che magari erano molto più brave a produrre contenuti ma meno social magari avevano solo 300-400 amici sui social per cui non avevano un livello di interazioni significativo però volevano comunque essere in competizione a livello di tecnica con tutti gli altri e quindi abbiamo inserito la qualità quelle 5 stelline un po' non so se avete visto Black Mirror ma la qualità dipende solo da quanto sei bravo da quanto sei bravo viene giudicato sia da questi staff di approvatori super segreti che nessuno conosce ovviamente sia dalla community stessa per cui all'interno dell'app abbiamo inserito un newsfeed in cui la community stessa vota tutti i giorni tutte le foto di tutti gli altri e tutto questo andamento di stelline fa salire o scendere il tuo chiamalo status più sale il tuo status più cambia di colore l'applicazione per cui nel newsfeed io vedo gli utenti che hanno il profilo rosso che sono quelli scarsi quelli verdi ok infatti Lorenzo è un verde e quelli viola che hanno tutta l'app che sbrillucica sono i più fighi tu li entri dentro io ne ho trovato uno l'altro giorno che ha fatto 870 campagne 870 campagne ne puoi fare una al giorno siamo nati da tre anni fate due conti poi abbiamo messo la popolarità quanta gente viene nel tuo profilo a vedere a prendere spunto da te quanti follower hai e per queste 4-5 cose la gente ne parla come se fossero veramente le cose più importanti della loro vita quando hanno un passatempo allora da tutto questo ne abbiamo tirato fuori dei consigli delle strategie delle cose che non abbiamo sbagliato e abbiamo ritenuto essere utili che vi spiegherà Lorenzo tra l'altro per inciso Lorenzo adesso lavora da noi adesso è un personaggio importante ma qualche anno fa era uno di quei primi mille che utilizzavano l'applicazione su beta tester è stato uno dei primi dieci che sono entrati nello staff per diventare approvatori e dopo sei mesi quando ho visto che aveva praticamente da solo approvato 150.000 foto abbiamo detto aspetta un attimo è malato vieni vieni sei un po' troppo bravo per fare quel lavoro esatto ho pensato la stessa cosa vieni poi da lì ho visto che aveva delle doti intense quindi adesso è responsabile lui di tutta la parte di community noi pensavamo che queste cose fossero diciamo valide soltanto nel mercato italiano perché lo conoscevamo in realtà qualche mese fa ne abbiamo aperto in Spagna abbiamo ricreato la stessa community lì con tutti questi meccanismi cioè in cui noi automatizziamo qualcosa di manuale che è difficile da scalare e da standardizzare invece abbiamo notato che è identico cioè noi in Spagna abbiamo i moderatori gli approvatori la community pazza anzi la community spagnola è molto più pazza che quella italiana per cui c'è l'idea che queste cose siano un po' universali comunque le strategie ve le rispone Lorenzo grazie a tutti buongiorno buongiorno a tutti io sono praticamente un esperimento umano praticamente che sono stato uno appunto come ha detto uno dei primi a utilizzare l'app appassionato comunque di pubblicità di grafica pubblicitaria ho scoperto l'app me ne sono innamorato ma più che altro per il concetto stesso per la semplicità che aveva e per il genio alla fine che c'era dietro in tutta questa semplicità e niente ho iniziato come utente poi sono stato uno dei primi approvatori come ha detto lui ho iniziato a coordinarli ho iniziato a imparare a imparare a imparare dalle persone io ho imparato tanto ho imparato un nuovo lavoro e ho imparato queste teorie diciamo così che sono delle regole base per la costruzione di una community e per il mantenimento e l'engagement di una community innanzitutto ho imparato e lo sto mettendo in pratica e lo sto insegnando anche ai nuovi community manager che sono che si stanno creando in Spagna e poi dopo negli altri stati in cui apriremo la cosa fondamentale è avere un orecchio enorme io ne ho le ho piccolissime però in realtà avere un orecchio enorme quindi ascoltare quello che dice la community ogni giorno quello che ti consigliano suggerimenti ma anche le cose personali in realtà cioè anche anche ascoltare e non solo ascoltare ma anche far vedere che stiamo che li stiamo ascoltando è una cosa fondamentale perché si sentono si sentono partecipi si sentono dentro a un'altra un'altra realtà un'altra vita e sanno che comunque con te anche se hai una figura magari importante all'interno di un progetto all'interno di una community comunque ti metti nel loro stesso livello diciamo così ma per oltre che ascoltare come ho detto prima bisogna anche chiedere per esempio qui c'è un esempio di un post che ho fatto qualche giorno fa in cui stiamo praticamente facendo la nuova app quindi la nuova versione dell'app e questa domanda qua cosa vorreste trovarci dentro? cosa vorreste trovarci dentro? e sono partiti non so sono 657 commenti ma adesso sono più di mille cosa vorreste trovarci dentro? e ci hanno messo di tutto cioè il fatto di renderli partecipi e quindi di far vedere che comunque l'app sta andando avanti e sta progredendo e sta inserendo nuove cose grazie a loro è una cosa fantastica loro immaginatevi come se in una bellissima costruzione ognuno di voi metta un mattoncino ok? metta un mattoncino e un giorno quando la costruzione sarà finita e sarà bellissima uno può dire io ho fatto parte di questa della costruzione di questo edificio ecco Frenze sta andando avanti così sta andando avanti molto bene grazie ai commenti cosa vogliono vogliono più competizione vogliono che la media della qualità vari in un certo modo piuttosto che con sbalzi insomma di tutto ok? e quindi dobbiamo far vedere questo far vedere e mettere in pratica quindi anche una piccola cosa una piccola cosa in più che è stata fatta grazie al consiglio di ok? grazie al consiglio di tizio di un utente questa diventa un premio che dai a lui che a noi non costa niente invece per lui è tantissimo ok? quindi è un po' da parte di un community manager di un responsabile della community è un po' mescolarsi in mezzo alla gente mescolarsi e quindi mettersi allo stesso piano abbiamo creato un livello unico diciamo così di persone ok? in cui tutti possono dire la loro in cui tutti possono consigliare eccetera ma la cosa importante è valorizzare i singoli ok? non sempre ma qualche volta valorizzare metterli in un piccolo piedistallo è una cosa fondamentale perché l'utente che è stato valorizzato ok? viene preso un po' come un esempio dagli altri no? quindi se una persona è stata più propositiva se ha fatto il post simpatico nel momento giusto se ha scattato una foto particolarmente bella valorizzarli con tag in un post oppure pubblicando la loro foto nel gruppo nella pagina ecco viene preso un po' come esempio dagli altri membri della community e quindi anche gli altri saranno più propensi a imitarlo e quindi a creare lo stesso livello ovviamente in mezzo a questi utenti ci saranno anche le persone che non utilizzano lo stesso modo di essere messi in evidenza ma per esempio con non lo so con offese con discussioni quindi provocando queste sono le persone che vanno in qualche modo ovviamente moderate ecco quindi in questo caso è un po' il community manager ci deve essere un po' il dottor Jekyll e Mr. Hyde fino a questo momento siamo stati sempre quelli che ascoltano quelli che consigliano quelli che accettano consigli ma nel momento in cui si crea ovviamente una discussione dobbiamo essere in grado di elevarsi un attimo e far rispettare il proprio ruolo noi abbiamo delle regole ben precise sia all'interno dell'app che nell'interno dei gruppi e sono poche ma chiare quando un membro della community non rispetta quelle regole a quel punto bisogna far vedere a tutti gli altri che le regole vanno rispettate quindi ti trasformi un attimo in Mr. Hyde quindi sei un po' più severo e questa cosa piace questo contrasto questo cambio di faccia è una cosa che ti rende un personaggio ok personaggio che nel mio caso io mi chiamo Lorenzo però ho come soprannome dado ok il dado non ha cioè il dottor jekyll e Mr. Hyde sono due ok due facce io ne ho sei quindi insomma c'è un bel po' di lavoro da fare una mattina ho una faccia la mattina dopo ho un'altra e in base a questo come potete vedere da questo post su telegram perché noi siamo abbiamo per valorizzare le persone all'interno della nostra community comunque gli diamo anche dei ruoli ovviamente noi non possiamo avere occhi e orecchie dappertutto ci sono altri utenti anche all'interno dei gruppi che fanno questo per noi fanno questo per me quindi molti utenti hanno dei ruoli anche di moderatori ma non solo anche se non è un ruolo il suo ma semplicemente è un far rispettare un attimo l'andamento diciamo così della community anche se non ha un ruolo comunque diventa le tue orecchie e i tuoi occhi ecco in questo caso qua noi comunichiamo con i nostri con le persone che collaborano con noi che sono appunto i moderatori approvatori delle foto e quant'altro comunichiamo tramite telegram questo è per farvi capire un attimo il discorso del personaggio queste sono tutte le mie facce diciamo così e in base alla mattina come comunicavo di fronte appunto alla community loro associavano una faccia al mio atteggiamento ecco questo ti rende appunto diciamo il crearsi un personaggio è un'interfaccia che hai con gli utenti io sono Lorenzo in mezzo c'è Dado ok e poi c'è tutto il resto c'è tutta la community loro vedono il dado quindi vedono quello che voglio far vedere io quindi mettendo da parte la mia vita diciamo così la mia vita privata no e questa cosa è molto interessante perché un oggetto un un modo di fare che poi essere un personaggio non deve essere per forza associato ad un oggetto non è che tutti siamo dadi non è che tutti siamo non lo so sedie ok ma potrebbe essere anche un modo di vestire un modo di porsi un modo di parlare il colore che indossi qualcosa che possa essere poi gli utenti possono ricordare ok in te ok che non è per forza la persona Lorenzo ma potrebbe essere un qualsiasi atteggiamento che hai ecco io per esempio per un po' per unire la community e per far condividere questo è extra friends ci tengo a precisarlo nel senso friends è una cosa friends è una cosa io ho cercato anche di uscire un po' dalle dinamiche di friends e quindi ho fatto condividere un dado ok facendolo passare da persona a persona della community e facendolo firmare ovviamente adesso è sporchissimo pieno di firme è stato dappertutto ha viaggiato più lui penso che non lo so che Marco Polo ha fatto tutta l'Italia queste sono solamente poche foto però questo è per farvi capire un attimo come il tutto possa anche uscendo un attimo dalle dinamiche del gruppo o dell'app possiamo fare una cosa del genere questo ecco una cosa importante è creare un'empatia creare empatia e quindi uscire un attimo anche dal personaggio qualche volta e mettere un qualcosa e far vedere un qualcosa che di noi personale insomma questo è un post che avevo fatto ed è una storia vera ho avuto un'intossicazione da orsetti gommosi ho avuto un'indigestione una sera e niente semplicemente ho voluto far vedere che veramente che stavo male poi c'è chi si era fermato al dado ok quindi chi si era fermato al personaggio e quindi il personaggio dado dà gli spoiler per quanto riguarda la campagna del giorno dopo per quanto riguarda quello che che è l'argomento della campagna il giorno dopo quindi moltissimi si sono praticamente pensavano che il giorno dopo avremmo fatto una campagna per gli orsetti gommosi ma in realtà sono stato male cioè nel senso ho vomitato e robe del genere quindi e invece tra tutti la miriade di commenti che ho ricevuto ci sono state anche quelle che sono andate oltre il personaggio abbiamo creato un'empatia quindi non lo so le signore mi hanno trattato un po' come un figlio come un bambino chiedendomi l'hai presa la medicina le cose del genere quindi sembra un pochino egocentrica la cosa effettivamente riguardandola però un po' dobbiamo essere così secondo me un community manager deve essere anche un attimo egocentrico ma più che altro modularsi e modificarsi per far capire il ruolo per far capire che sei in mezzo a delle persone e quindi niente questo è quello che è stato il mio percorso e quello che ho imparato insomma diciamo così e niente mi sembra di essere entrato nei minuti giusti ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti